Mi sono sentito chiamato in causa da questo video fatto da Marco Tomasin Sulla sua esperienza al Games Week e in generale sui videogiochi Sono le 5 di pomeriggio e Timmy torna a casa dal suo lavoro Un lavoro che tra l'altro non gli piace La prima cosa che fa appena torna a casa è che si fionda sulla Playstation E inizia a giocare a Fortnite Deve assolutamente fare una partita di Battle Royale con i suoi amici Quindi si mette le sue cuffie da gamer e inizia Passano due ore in man che non si dica Però Timmy sta livellando come un pazzo su Fortnite E quindi continua Dovrebbe andare a fare un allenamento in palestra Perché oggi nella scheda è in muscle up con i dips Però Timmy dice Dai ancora solo una partitina E allora Timmy fa un'altra partita Però poi gli piace così tanto il gioco che ne fa un'altra E quindi salta all'allenamento E poi continua a giocare, giocare, a giocare E dato che non ha voglia di prepararsi la cena Si ordina una pizza dal kebabario E poi continua a giocare, a giocare, a giocare Fino a quando va a dormire alle 2 di notte Il giorno dopo deve svegliarsi alle 6 e 30 di mattina Quindi dormirà 4 ore e mezza Ma è un sacrificio che fa volentieri Perché per giocare a Fortnite questo è altro E poi c'è Tyler Tyler da bambino aveva la Wii E ha passato ore e ore e ore delle sue giornate A giocare a Mario Kart, a Mario Bros A Super Smash Bros Brawl Però crescendo Tyler si è accorto che i videogiochi non gli davano più molto E piuttosto che progredire nei livelli di Super Mario Bros Ha deciso di progredire e di salire di livello nella sua fottuta vita reale Tyler vive la sua vita come un videogioco E ogni giorno cerca di salire di livello e di ottenere punti esperienza Vede l'allenamento come un videogioco Vede il lavoro come un videogioco Vede le sue relazioni come un videogioco Tyler nella sua vita reale ha tutto maxato al massimo Perché anziché nascondersi in una realtà virtuale Salire di livello e progredire in un videogioco Ha deciso di farlo nella vita vera Questo video farà arrabbiare molte persone Allora, tra tutti gli esempi che puoi fare è sempre Fortnite Perché la gente è convinta che i videogiochi sono Fortnite Molti ragazzini, sicuramente La scorsa settimana sono stato alla Games Week a Milano Che è un evento enorme, gigantesco, nella Madonna Poche volte ho visto così tanta gente in un posto solo E poche volte ho visto tutta la fiera RO di Milano così piena Ogni fottuto padiglione era pieno di gente Sarò sincero, i videogiochi, gli anime non sono letteralmente la mia cosa Non sono mai stati la mia passione Sono andato perché lì c'era lo stand della mia agenzia E quindi c'erano dei ragazzi che volevo beccare da tanto tempo E in più in quei giorni lì ero a Milano Quindi ne abbiamo approfittato Io e la mia amorosa per andarci Ripeto, i videogiochi non sono mai stata la mia roba Non sono mai stata la mia passione Ho capito Quando ero piccolo, anch'io come Tyler avevo la Wii Ho giocato tanto tanto alla Wii Poi crescendo ho praticamente abbandonato tutto E mi sono dedicato ad altre cose Però essendo lì, vedendo tutte quelle persone Vedendo tutti quei ragazzi lì Mi ha fatto pensare molto, porca vacca A una certa ho anche beccato un altro ragazzo Che è un creator Stavamo parlando di una cosa e lui mi ha detto Quest'anno tu ho visto che sei stato alla fiera lì Quella dei pompati, dei grossi E gli faccio Remini Wellness E lui fa Sì, sì E gli ho detto Però a Remini Wellness c'era veramente un decimo della gente che c'è qui E lui mi ha detto Questo è un grosso indicatore Di quanto la gente non abbia voglia di fare fatica Ma abbia voglia di nascondersi dietro qualcos'altro Dietro caso Ancora, di nuovo con sta storia del Eh, non Oggi le persone non hanno voglia di far fatica C'è solo voglia di nascondersi In tutta quella Quell'ombra di Ma cosa vuol dire? Ma chi è che Ma poi oltretutto Ma chi c'è voglia di far fatica? Chi è che ha voglia di far fatica? Quanto meno se devi fare un discorso del genere Parla normalmente di delle cose sensate Di non ha voglia di Migliorare nella sua vita Di fare dei progressi Di fare una carriera Ma di far fatica Chi è che ha voglia? Scusami Ma i videogiochi E questa cosa che mi ha detto lui È una cosa che condivido tantissimo Il fatto solo che a Remini Wellness Ci sia un decimo della gente Che c'è alla Games Week La dice lunga Non dico Cioè non voglio fare qua il profeta E dire che è tutto sbagliato A nessuno dovrebbero piacere i videogiochi Però la dice lunga Sul fatto che Le persone non hanno troppo voglia di fare fatica Hanno piuttosto voglia di Stare su una sedia A giocare tutto il giorno Dietro i videogiochi E se è chiaro Se il video sta prendendo questa piega E sto parlando un po' male Dei videogiochi E della Games Week in generale È perché sono entrato alla Games Week E porca puttana Ho visto Cioè non lo so Era pieno di ragazzini Ragazzini giovani Dai 10 Veramente ai 20 anni Con queste cazzo di cuffie Sono messi su queste sedie Inarcati A sparare di continuo tutto il giorno Cioè vai a una fiera La Games Week E stai tutto il giorno A giocare ai videogiochi Ma aspetta Anche il fatto di giocare ai videogiochi Non vuol dire che perché Fai tutte queste cose Non puoi fare uno sport O non puoi andare in palestra Ah Sono andato a una fiera di moto E che schifo Tutti a guardare le moto Perché effettivamente è vero Il Games Week È una fiera È un posto dove giri Vedi tante cose Però è anche vero Che è un posto dove provi Magari in esclusiva Certi giochi È un posto dove Ti ritrovi per Provare cose che non hai mai provato Perché magari non puoi In altri posti se non lì E cosa più importante Come hai detto tu Evidentemente lui ha visto Dei ragazzini Ok Diversi ragazzini E credeva che La gente sta lì tutto il giorno Semplicemente ha beccato Diversi ragazzini Di giocare a diversi giochi In diverse ore della giornata Quindi Ma poi comunque Non puoi neanche stare lì Tutto il giorno Perché si fanno delle file Magari per giocare a quei giochi Fiera Cioè la gente passa ore e ore Della sua vita A guardare altri Giocare ai videogiochi È una cosa che Arrivato a 23 anni Non mi fa più senso Non me lo faceva neanche prima Perché non ho mai passato Troppo tempo A guardare gli altri Vedere i videogiochi Adesso me ne fa ancora di meno E in più Un'altra cosa di cui mi sono accorto E di cui ho parlato Spesso con la mia amorosa Anche prima di andare Alla Games Week È il contenuto Di questi giochi Le armi L'uccidere Sono idolatratti Sono 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 resi comuni Cioè ogni cazzo di gioco A cui giocano i ragazzini Di 15 anni A cui molto probabilmente Giochi anche tu O sulla quale passi Molto tempo anche tu Ha come obiettivo ammazzare Altra gente Allora sul fatto che Ai ragazzini di 15 anni Di oggi Piaccia solo quello È vero E infatti fa schifo Se non c'è competitività E ammazzare gli altri Non piace Non c'è più la bellezza Di esplorare un mondo Pixelato Perché chi se ne frega Tanto è bella la storia Chi se ne frega Della grafica Però vabbè Questo è un altro tipo di discorso Però allo stesso tempo Va in conflitto con un'altra cosa Questa cosa che ha detto lui Cioè l'ideologia dei videogiochi Della maggior parte delle persone Soprattutto Quelli un po' più anziani È che si spara e basta Non esistono i videogiochi Dove non si spara O dove non si ammazza qualcuno Perché poi ci sono i giochi Dove spari Ma non ammazzi qualcuno Tipo i giochi dove ammazzi I zombie Voglio capire un'altra cosa Perché i film Dove ammazzi E spari E fai Vanno bene E i giochi no Perché i libri dove ci sono gli squartamenti E eccetera eccetera Vanno bene E i videogiochi no Non capisco E poi oltretutto Ci sono quelle persone Che non devono toccare i videogiochi Non che i videogiochi sono il male Perché rendono le persone così No Se te sei una persona Che spacca un joystick Ogni volta che apre il gioco Per fare una partita E poi perde E spacca il joystick Sei tu il problema Non è il gioco Non è una cosa easy Sia chiaro Io ci ho giocato a Call of Duty Ci ho giocato tanti anni della mia vita Quando avevo 12 anni E uccidere 30 persone Con una mitragliatrice Era una cosa stranormale Sono entrato alla Games Week Ho visto su un muro Un'arma enorme Una fotuta arma Le armi servono per ammazzare la gente Letteralmente Quest'arma enorme Che veniva Messa in una maniera Fighissima La violenza Anche su questi videogiochi È idolatrata È resa normale È resa Stra Vabbè caro amico Questo è un istinto primordiale Ce l'abbiamo dall'alba dei tempi Alle persone Piace la violenza All'essere umano Piace quella roba lì Che ti piaccia o che non ti piaccia È così E non dipende dal videogioco Non è che se io ammazzo 30 Qual è il punto del videogioco? Perché io faccio la differenza Tra il videogioco E la vita reale? Perché io so che nel videogioco Non c'è la conseguenza Non c'è la conseguenza Se ammazzo qualcuno Quando in realtà Io a parte che non sto ammazzando Proprio nessuno Io sto ammazzando Una linea di codice Al massimo Perché sembra davvero Che lui ne parla Come se fosse un omicidio Ogni volta Cioè in un videogioco Ammazzi uno come niente Sono sicuro al 1000% Anche perché l'ho letto in un libro Che si chiama The Molecule of More La molecola del DPU In pratica Che è la dopamina In pratica Che diceva che Gli adolescenti Soprattutto Tutti non hanno La corteccia prefrontale Pienamente sviluppata E la corteccia prefrontale È quella parte Del nostro cervello L'ultima ad essersi Evoluta L'ultima ad essersi Aggiunta al nostro cervello Dal punto di vista evolutivo Quella cazzo di parte Del cervello Che ci fa prendere Delle scelte logiche E che ci fa pensare Prima di agire Gli adolescenti Molto probabilmente Tu che stai guardando Questo video Non hai ancora sviluppata Questa cazzo di Corteccia prefrontale E quando la stai sviluppando Nel momento Negli anni in cui La stai sviluppando Stai sparando Ogni giorno Per 3-4 ore di fila E stai ammazzando Le persone Penso che Lui si rivolga Ai 15 anni Per dirgli Guarda C'è questo pericolo qua Facendo questa cosa qua Tutti i giorni E qualunquismo Qualunque cosa Troppo tutti i giorni Ti fa male È sempre lo stesso discorso Solo che Questo tipo di persone Ha bisogno Di impuntarsi Contro i videogiochi Solo perché È una cosa recente Recente nel senso Che negli ultimi anni Si è sviluppata Poi in realtà Sono 20 anni 30-40 Eccetera Che ha avuto una crescita Questo periodo storico Riguardo questo ambito Grazie Anche bere l'acqua Tutto il giorno Muori Perché ti esplode La vescica Non è un discorso Senza senso È inutile Cosa letteralmente Ti impedisce di sviluppare Alla grande La tua corticia prefrontale E poi Ti porta ad essere molto più impulsivo In tutte le scelte che farai Ti porta ad essere più impulsivo Per tutto il resto della tua vita Perché Perché non ti permette Di svilupparla bene Lui sta dando Lui parla Come se queste cose Fossero Certe Cioè valgono per tutti Ed è sempre così I videogiochi Ti fanno quello Punto La fa sviluppare letteralmente male Sei chiaro Non sono uno scienziato Ma questo è il concetto E tu dici Che male c'è ad essere impulsivo Ad essere impulsivo C'è molto male Perché prima di tutto Puoi fare una cazzata Posso metterci 15 mani sul fuoco Che il fatto che Hai presente Che in America C'è gente Che entra nelle scuole E ammazza 20 persone Ovviamente Sicuramente Ci sono degli altri problemi Ma Posso ripeto Metterci delle mani sul fuoco Che anche i videogiochi Di sparatutto Questi giochi In cui ammazzi Continuamente le persone Hanno un'influenza Super negativa Su questi ragazzi Eh già Che poi entrano Tutta quella violenza Che c'è sempre stata Che siamo riusciti a superare Nel senso che Ok il mondo è ancora violento Ma siamo Molto meglio Rispetto a come erano Tempi andati Stragi nelle scuole Tutti i casi Dal 1927 a oggi 1927 Certo Perché esistevano i videogiochi Che poi entrano E fanno questi macelli Mio Dio Letteralmente E i videogiochi Normalizzano questa cosa Di ammazzare continuamente Le persone Questo è un punto Questa è una cosa negativa Cioè che ogni giorno Tu torni a casa da scuola Torni a casa da lavoro E ammazzi persone sul videogioco Sembra una cosa Iper normale E non dovrebbe assolutamente esserlo Due Ti fa essere più impulsivo Letteralmente Sei più impulsivo Nella tua vita E questo può voler dire Che fai delle cazzate Dal punto di vista fisico Sei più violento Sei più impulsivo Puoi tirare un pugno ad uno Senza che ce ne fosse minimamente Ma è veramente il contrario Faccio quella roba lì sul videogioco Per estranearmi dal Dalla rabbia Che magari ho Trattenuto tutto il giorno Da persona impulsiva Che non sono Però mi metto nei panni Di essa Mi evito da persona impulsiva Di sfogare la mia rabbia su altri Semplicemente Caso vuole che Una persona che giocasse ai videogiochi Che era anche violenta Gli veniva attribuito quello E come quando Io dico Al mio amico Marco Oh sei proprio uno stronzo No? Poi però Marco è gay E quindi mi dice Mi stai discriminando Oppure tutti si girano Sei Sei omofobo No Non sono omofobo Esisterà un gay stronzo Nella vita Nella terra No? Non è che solo Non ti sto dando lo stronzo Perché sei gay La necessità O anche nella vita Di tutti i giorni Casomai sei più impulsivo E non riesci ad autocontrollarti Non riesci a seguire minimamente una dieta Perché? Perché sei troppo impulsivo Non riesci a prendere una decisione Bella Controllata E pensata Perché? Perché sei troppo impulsivo Perché? Perché hai passato anni della tua vita A friggerti il cervello E a non permettere alla tua corteccia prefrontale Di svilupparsi E poi c'è un'altra cosa E l'ho letto sempre in questo libro The Molecule of More Ed è che praticamente I videogiochi I giochi online Sono il paradiso Per il tuo sistema dopaminergico Che cos'è il sistema dopaminergico? È semplicemente il sistema Che rilascia dopamina nel tuo cervello Sono sicuro che a questo punto Della tua vita Hai sentito parlare di dopamina Molto probabilmente L'hai sentita nominare nel mio canale E molto probabilmente Gli hai dato una connotazione negativa La dopamina La dopamina di per sé Non è malvagia È che ci sono delle cose Che rilasciano dopamina Di scarsa qualità E per questo Ti tengono attaccate Per esempio I social network Per esempio Il cibo spazzatura Per esempio Le droghe Per esempio I videogiochi Che sono letteralmente Una droga Perché? Perché ti danno Questo senso di progresso Cosa succede? Che sono sicuro In ogni videogioco Che sia sulla Play Che sia sulla Wii Che sia sul tuo telefono Come Clash of Clans Su Crash Royale Allora lui è un grande Comunque Fa degli esempi sensazionali Cioè prende Vabbè Forte Ancora ancora Te lo passavo Ma prende Clash of Clans E Clash Royale Hai questo sistema Per cui avanzi continuamente E diventi più forte E ottieni progresso nel gioco E sì E questa cosa Di ottenere progresso Che tra l'altro Se ci fai caso Ti viene sempre mostrata Con una barra Dei punti esperienza Con una barra Del progresso È una cosa Che al tuo Fottuto cervello Piace da impazzire Al tuo sistema Della dopamina Piace da impazzire Perché ogni volta Che ottieni un po' Di progresso Viene rilasciata Della dopamina Nel tuo cervello E quindi sei motivato A giocare ancora E questo è un sistema Abbastanza malvagio Sia chiaro Molto probabilmente Chi ha sviluppato i videogiochi Non è che aveva in mente Questa cosa Di rilasciarti La dopamina Eccetera eccetera No no Invece sì Anzi Stavo per dire Che spezzo una lancia A tuo favore Sì Chi Le case produttrici Soprattutto quelle più grosse Soprattutto quelle Come Nintendo Fanno degli studi Sulla mentalità umana E su come Il tuo cervello Reagisce a determinati stimoli Proprio per farti comprare Di più i loro prodotti Però chi sicuramente Sviluppa i videogiochi E giustamente lo fa Potrei dirti Deve tenerti Più tempo attaccato Possibile Al fottuto schermo Come nel caso Dei social network E come lo fa Sfruttando questo sistema Della dopamina Mostrandoti sempre Come puoi progredire Nel gioco Facendoti alzare di livello Utilizzando il rinforzo Intermittente Che è un'altra cosa Di cui parleremo più avanti E di cui abbiamo già parlato Sul canale Vai a cercare Rinforzo Intermittente Su internet Sono tutte tattiche Che ti tengono Attaccate al fottuto Videogioco E sai cosa succede Che inizi A sentirti bene Inizi a sentirti Alla grande Perché Perché Stai ottenendo Progresso Nei videogiochi Ti senti sempre più di successo Voglio dirti una cosa E me lo ricordo Avevo più o meno Fai conto 13 anni Mi ricordo Era il periodo di dicembre Più o meno questo periodo Periodo di Natale E c'erano Stavo facendo Tipo un check mentale Di tutto quello Che stava andando bene Nella mia vita Al tempo E mi ricordo Che dicevo Ok Ultimamente a scuola Ho preso degli ottimi voti Tipo avevo preso diversi 8 e 9 in grammatica E quindi ero stra felice Perché Perché la mamma Mi avrebbe comprato I nerf Tra l'altro Pistole con cui sparare Ma vabbè Quindi quello Poi dicevo Mi sto divertendo molto A baseball Perché sto diventando Più forte Ed ero stra felice E un'altra cosa Su cui avevo posto Molto la mia attenzione Era che il mio Villaggio su Clash of class E non sto scherzando Stava andando alla grande E stavo maxando Tutti tipo Gli estrattori di elisire E probabilmente Sai bene di che cazzo Sto parlando Se non sai Di cosa sto parlando Meglio Ma uno degli aspetti Fondamentali Della mia vita Al tempo Era che Il mio villaggio Su clash of class Stesse andando bene E se ci penso adesso Dico Porca di quella vacca Quanto si è Inserito Quel gioco All'interno del mio cervello Tanto che ci è rimasto per anni Prendo la classica frase Del Eh mio figlio Sta tutto il giorno Attaccato al cellulare Ha 8 anni E si comporta in questo modo È assurdo Tuo figlio Di 8 anni Può andare in un negozio E prenderselo da solo No Sei tu che gli hai dato Sei tu che gestisci Il suo approccio Che ha avuto per la prima volta Con quella roba lì Sei tu che glielo dai Non appena rompe i coglioni Perché sei tu Che non hai la forza Di poterlo crescere Decentemente A volte Vuole semplicemente Accendere E fare casino In un gioco Perché alla fine È bello anche divertirsi E basta Non serve sempre Un insegnamento Non serve sempre Avere una morale Basta solo Sapersi adeguare E bilanciarsi Nella propria vita E se non lo sai fare Purtroppo non è un problema Che avrai solo con i videogiochi Ce l'hai con tutto Questa cosa mi dava Un senso di progresso E mi faceva perfino Sentire bene Il fatto di progredire All'interno di un videogioco E ti dico una cosa Ci sono tantissimi ragazzi Molto probabilmente Sei tu uno di quei ragazzi Però ti chiedo di dire una cosa Prima di scrivermi Un commento negativo Qui sotto Non lo farò Perché sto parlando male Del tuo videogioco preferito Fai una cosa Fermati a pensare un attimo Dove vorresti Ottenere più successo In un fottuto videogioco O nella vita reale Vorresti Ottenere un fisico migliore Nella tua vita reale Casomai Trovare un lavoro Che ti permetta Di guadagnare bene Di lavorare dove vuoi Trovare una ragazza Con cui ti piace stare Una ragazza con cui Ti trovi bene O preferisci Solo progredire Nel fottuto videogioco E salire E nessuno ti obbliga A giocare ai videogiochi Non devi essere frustrato Solo perché Gli altri lo fanno E tu Se non lo vuoi fare Ti senti costretto E colpa Cioè Semplicemente Non lo fare Nessuno ti obbliga Io La mia fidanzata Ce l'ho Io Con la mia fidanzata Ci gioco ai videogiochi E qui a fianco a me Il complesso Che hanno oggi Ragazzi Del Scelgo tra amici E fidanzata Tutte e due Sto sia con i miei amici Sia con la mia fidanzata E chi se ne frega Perché tanto faccio le stesse cose Faccio comunque quello che voglio Quindi è tutta una questione di scelte Sei tu che devi saper fare le tue scelte Non è O quello O quello Perché devo per forza scegliere Tra palestra e videogioco Non posso fare tutte e due Perché quando capisci che Il videogioco È realmente qualcosa di finto Che ti dà solo questo senso di progresso Inizia a capire che stai Buttando la tua vita In qualcosa che non ti dà nient'altro Ti sta Semplicemente facendo salire di livello Su un fottuto schermo In un mondo che non esiste Perché non esiste La vita reale è questa Quella che stai vivendo adesso E se vuoi essere felice Se vuoi sentirti Se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi Devi salire di livello Nella vita reale Non puoi farlo in un fottuto videogioco Solo che la maggior parte Dei ragazzi che gioca ai videogiochi Si nasconde dietro queste realtà Perché? Perché è molto più facile Nei videogiochi Non trovi spesso i fallimenti Oppure Quando fallisci Non fa così male Come nella vita reale Questo discorso Potresti farlo anche a uno Che fa dei cofanetti di legno Non gli serve a niente Fare cofanetti di legno Da mettere in casa Semplicemente gli piace Ed è la sua vita E lui vuole fare quello E un'altra cosa Cosa vuol dire servire? Perché la maggior parte Delle persone di oggi Parlano di servire Quando una cosa serve fisicamente Ma io vorrei ricordare Che essere felici serve E quando una cosa ti rende felice Serve A te serve essere felice Serve star bene Serve sfogarti Per fare altro Nei videogiochi fallisci E poi muori Casomai E poi rinasci E poi rifarlo da capo Quindi il motivo principale Per cui i ragazzi Giocano i videogiochi È perché è una tana È uno sfogo È un qualcosa Tramite il quale possono Scappare dalla vita reale Sì In parte sì Forse tu stai cercando Di scappare dalla vita reale Non va bene Devi fottutamente affrontare La vita Devi letteralmente Cazzo Elimina i videogiochi Non giocarci ai videogiochi Ed esci e prova qualcosa di nuovo Se vuoi salire di livello Nella vita reale Devi fallire Devi sbagliare nella vita reale Non puoi nasconderti Nasconderti nei videogiochi Sicuramente E sia chiaro C'è anche chi si nasconde Dietro i social network C'è anche chi si nasconde Nel fumare erba Perché? Perché ha paura Di affrontare la realtà E quindi cosa fa? Si nasconde Nel fumare l'erba Nel In un'altra droga Nell'alcol Nel cibo spazzatura Nel gioco d'azzardo Sono tutti i modi Per scappare dalla realtà Quando la tua realtà Non è abbastanza Te ne crei un'altra Che sia col fumo La droga Di questo Di quello O con i videogiochi E so già So già Che comunque c'è gente Che mi starà scrivendo Nei commenti Oh ma cosa dici? Guarda che videogiochi Fanno bene Se giocassi un'ora Alla settimana Ti staresti benissimo Chi cazzo gioca Un'ora alla settimana Ai videogiochi? Nessuno Se giochi un'ora alla settimana Ottimo Casomai per staccare un po' il cervello Un'ora alla settimana Ottimo Ma già un'ora al giorno È un'ora al giorno Che stai buttando dietro ai videogiochi Perché oltre ai videogiochi Hai social network Hai Netflix Hai YouTube E hai tutte queste altre cose In più hai un'ora di videogiochi al giorno Vuoi giocare ai videogiochi? Ottimo Fallo un'ora alla settimana Sono sicuro che non giochi un'ora alla settimana E ripeto Pensa a questa cosa Stai progredendo Perché io devo venire da te? Io che ho dei problemi con la palestra Non mi piace per quei miei motivi E devo dirti Fai un'ora alla settimana di palestra Ma te c'hai la tua vita E io c'ho la mia Non la sto prendendo sul personale Sto facendo un esempio In un mondo che non esiste E se quel cazzo di gioco lo eliminano Se Fortnite non va più di moda Tutto quel progresso Adesso devi costruirlo in un altro gioco E poi rimani comunque uno sfigato Che non riesce a parlare con una ragazza Che cosomai farà tutto Tutta la vita Un lavoro che non gli piace È una realtà virtuale Levala Per questo mi fa paurissima Adesso non lo so Non se ne parla più per fortuna Non troppo almeno Il... Come si chiama? Il metaverso C'era gente che passava giornate dentro il metaverso È assurdo In Italia No 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 Non se ne parla Scusa non è appena uscito Quella della Apple No no infatti Non è appena uscito L'Apple Vision Pro No no infatti Non se ne parla No no Assolutamente Aspetta Oltre al fatto che l'Apple Vision Pro Non è fatto per giocare Però è per farti capire Che in realtà La realtà virtuale È quella di cui tu hai parlato Di cui hai usato anche male il termine In realtà avanza come il resto Quindi anche volendo che tu vuoi attaccare questo ambito Non ci riesci perché dici pure cazzate È quello il problema di fatto Tanti in America Sii gente che passa giornate all'interno del metaverso In cui sale di livello Becca i punti esperienza Bro è un'altra realtà Letteralmente Non preferisci Cazzo salire di livello nella vita reale E sei chiaro sto parlando alle persone che hanno voglia di salire di livello nella vita reale Se sei un ragazzo che ha un po' di ambizione Che ha voglia di vivere una vita che valga la pena di essere vissuta Devi progredire Devi metterti all'opera Devi fare fatica Non puoi nasconderti dietro i videogiochi E questo è il mio messaggio per te Non nasconderti dietro i videogiochi Esci E vai fuori nel mondo reale E cerca del progresso Cerca una ragazza Cerca di costruire il tuo fisico Cerca di costruire la tua sicurezza La tua confidence Cerca di imparare qualche skill Che possa permetterti Che ti piaccia Sia chiaro Che ti piaccia e ti permetta di lavorare In quel cazzo che vuoi fare tu Ci sono una miriade di cose belle in questo mondo E ti stai rintanando in un altro mondo fatto di videogiochi Ok Quindi dato che so che non userai la play O clash of clans O clash royale Per un'ora alla settimana Perché è impossibile Lo userai ogni giorno Lo so già Credimi Adesso puoi cercare mille applicazioni Per bloccare il videogioco Per fare questo Per Cose Per limitare l'uso del gioco No Devi eliminarlo E quando farei la scelta di eliminarlo Vuol dire che sarai pronto a fare il passo dopo Sarai pronto ad uscire dalla tua zona di comfort E a salire di livello Altrimenti Credimi Tornerai a giocare continuamente Non giocherai un'ora alla settimana Sono sicuro Sono questi videogiochi Sono molto spesso Un pericolo per la tua salute mentale E spesso se sei un ragazzo giovane Sei in una fase molto importante della tua vita In cui quello che infili nel tuo cervello Determina anche cosa esce dal tuo cervello Se metti merda nel tuo cervello esce merda Se ci metti informazioni e cose ed esperienze di qualità Usciranno dei risultati di qualità Ok Se è chiaro non è facile perché questi Videogiochi sono letteralmente fatti Come abbiamo detto Per attirarti Per catturare più della tua attenzione possibile Non lasciare che succeda Cazzo Esci nella vita reale Fallo insieme ad un amico Se hai un gruppo di amici O sei un amico con cui giochi sempre Mostrali questo video Mandagli questo video E digli Guarda che cazzo sta facendo il videogioco Al nostro cervello Letteralmente Detto questo Leone Iscriviti al canale Vai ad ascoltare anche questi video su Spotify Cosa mai se non vuoi vederli in forma di video Puoi ascoltarteli mentre vai a scuola Mentre vai a lavoro ogni giorno Con le cuffiette su Spotify Quindi vai su Spotify Discriviti E ricorda un'ultima fottuta cosa Senti la paura E fallo comunque Ci vediamo nel prossimo video Games Week Ha parlato di Games Week Forse per 20 secondi Due minuti di video forse Ok Il problema è che Persone che Vengono in questo canale Danno per scontato che Tutti i videogiochi sono in un modo Tutte le persone sono uguali E tutte le volte Succede sempre la stessa cosa Io non ho nessun problema Non ho bisogno di andare a spada tratta Per difendere i videogiochi Da nerdino che sono Andate in pace Iscrivetevi Possibilmente Aiutatemi a crescere Vi prego Perché nessuno mi guarda